Davvero bella la storia di Michele che abbiamo appena condiviso con tutti quanti voi, cari amici. Allora andiamo prima di presentare il prossimo ospite dall'altra parte dello studio da Maria Pia. Sì, voglio subito aggiornare i nostri telespettatori sul fatto che c'è stata una morte purtroppo anche tragica ma che al cordoglio per questa morte ha partecipato anche Papa Francesco. Di che si tratta? Il rettore dell'Università Cattolica di Milano, Francesco Anelli, è stato trovato appunto morto in circostanze tragiche. Qualcuno ipotizza che sarebbe un suicidio. Ha presa la notizia il Papa in un telegramma firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin indirizzato all'Università Cattolica appunto, esprime la sua vicinanza ai congiunti, in particolare alla mamma e all'intera famiglia dell'Ateneo e della Fondazione ricordando l'impegno per la promozione dei valori cristiani in ambito universitario favorendo il dialogo con le nuove generazioni. Dunque Anelli lo affida il Papa alla misericordia divina e mentre invoca per quanti piangono la sua scomparsa il conforto della fede e della speranza cristiana invia la benedizione apostolica. Nel telegramma Parolin aggiunge pure l'espressione della partecipazione personale al lutto con un ricordo dell'altare. Quindi è molto importante che ci sia ecco questo contesto intorno a questa notizia. Grazie Maria Pia, allora voglio dare il benvenuto al sindaco di mattinata Michele Biceglia buongiorno, bentrovato, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i telespettatori. Col sindaco Biceglia parliamo di una iniziativa molto bella l'edizione 2024 di questa rassegna di Teatro Civile Teatri di Luce e di Pace la quarta edizione che torna a mattinata la città bianca della provincia di Foggia mi piace definirla così nei giorni 25, 26, 27 e 28 maggio e c'è stata un'anteprima il 23 maggio scorso per commemorare appunto la strage di Capaci. Mattinata è città di luce sindaco ma vuole essere anche città di pace qual è il senso di questa rassegna di teatro civile che come dicevamo è giunta alla quarta edizione? proprio così noi nasciamo per nostra vocazione appunto come città di luce nello standardo comunale la dicitura Lux Vera Illuminet lo fa comprendere sin da subito la nostra patrona è la Madonna della Luce e per noi era importante e continua ad esserlo far passare questo messaggio ossia quello di una comunità aperta alla luce non solo per l'alto valore religioso e per questo insomma noi credenti lo abbiamo fatto da nostro evidentemente sin da subito ma anche per chi insomma si affaccia alla nostra realtà per conoscerla per apprezzarla e per viverla pertanto questa questa dicitura ci è venuta naturale e consegnandola ad un messaggio universale che è quello della pace ecco perché Teatri di Luce e di Pace arriva alla quarta edizione quest'anno con un messaggio ancora più forte una rassegna di teatro civile impegnato che vede coinvolti i giovani che vede coinvolta le scuole che vede coinvolta l'Accademia delle Belle Arti di Foggia che ormai è diventata un partner di questa iniziativa di questa Kermesse che ci coaudia ormai da anni nella realizzazione di installazioni che raccontano le emozioni e il tema che ogni anno cambia suggestioni quindi che ci aiutano a cambiare e a modificare in meglio la narrazione della nostra comunità voi sapete bene che nel 2018 il Consiglio Comunale di Mattinata è stato sciolto per infiltrazioni per presunte infiltrazioni mafiose e quindi noi abbiamo eredicato dopo due anni e mezzo di commissariamento prefettizio una comunità smarrita impaurita non più purtroppo legata ad un vissuto che l'aveva vista protagonista nel Gargano e nel nostro piccolo in questi anni di amministrazione quasi 4 a settembre stiamo ricostruendo la qualità della narrazione attorno a Mattinata innestandola in una dinamica molto più completa che quella del Gargano Senta Sindaco Dostoevsky diceva che la bellezza salverà il mondo Mattinata è una città bellissima perché quando si esce dalla galleria di Monte Saraceno ora viaggio un po' con la mente magari i tanti telespettatori che hanno percorso quella strada assieme a me proveranno a fare questo viaggio virtuale e ci si trova davanti questa macchia bianca questa esplosione di luce che è la cittadina in qualche maniera ci consegna il senso stesso della bellezza non lo dico per campanilismo perché amo profondamente il Gargano ma lo dico perché è così è un dato oggettivo di fatto e questo tipo di azione che voi avete intrapreso che si anche come dire concretizza in questa iniziativa di teatro sociale vuole in qualche maniera aiutare anche a far riflettere su quella che deve essere la bellezza che deve abitare all'interno delle nostre città uso il verbo abitare non a caso sindaco perché tante volte la bellezza nelle nostre città viene messa un po' nelle periferie nelle discariche e dunque il teatro serve anche a dare un senso di bellezza ai veicoli dei nostri stupendi borghi ma più in generale della nostra bellissima Italia non so se è d'accordo con questa riflessione non solo sono d'accordo ma ne faccio come dire vissuto politico quotidiano teatri di luce di pace ha nella sua mission anche quella di portare il teatro a tutti ma la bellezza delle installazioni e quindi davvero l'emozione di chi poi attraversa i vicoli e le strade di mattinata non solo come turista ma anche come cittadino perché noi restiamo convinti di una di una di una buona prassi che è quella che il primo turista è il cittadino che vive la sua comunità e che se ne fa portatore sano non solo di interessi ma anche di narrazione qualificata ed è importante sicuramente è importante quello che lei dice anche un nuovo modo potremmo dire di vivere la propria cittadinanza attiva allora ricordiamo teatri di luce e di pace questa abbiamo visto anche diverse locandine grazie alla regia mattinata provincia di foggia 25 26 27 e 28 maggio il sindaco vi aspetta come primo turista oltre a essere primo cittadino come primo turista della propria città e noi per questo lo ringraziamo e lo salutiamo ci diamo appuntamento a una prossima occasione sindaco grazie per essere con noi e grazie come sempre per la sua disponibilità grazie un caro saluto a lei a tutta la redazione e chiaramente a tutti i telespettatori grazie grazie ringraziamo Michele Biceglia sindaco di mattinata adesso andiamo in pubblicità e poi da mattinata ritorniamo a San Giovanni Rotondo questa volta nell'orto del convento compadre Rinaldo con padre Rinaldo grazie a tutti i nostri